Bene, eccoci anche oggi insieme. Puntata che sicuramente porterà a scoprire tanti aspetti, ad iniziare anche da alcune parole, perché parliamo della plastica. Lo facciamo con Antonio Di Penta, che è il presidente della sezione Materie Plastiche di Confindustria Venezia Rovigo. Lui romano, ma imprenditore rodigino. Cominciamo a conoscere il mondo della plastica, perché a mio parere il mondo della plastica è da tempo messo sotto accusa ingiustamente. Fermo restando che bisogna andare verso le plastiche riciclabili, ecologiche, verdi, come si vuol dire. Però insomma, è il primo caso in cui la maleducazione complessiva mondiale delle persone vede sul banco degli imputati, non gli inquinatori, bensì i produttori di un oggetto utile, come possono essere le bottiglie o più in generale la plastica. E ce ne siamo accorti, soprattutto in tempo di pandemia, che se non avessimo avuto la plastica, avremmo avuto molti problemi dal punto di vista medicale in particolar modo. Detto ciò, la prima parola del quale vorrei spiegare il significato è shortage. Perché voi avete diffuso un comunicato stampa in cui dite allarme dei trasformatori della plastica per la disponibilità limitata di materie prime e impennata dei prezzi e paventate un nuovo shortage. Significa? Sì, innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito. Ci mancherebbe. Shortage significa sostanzialmente una mancanza appunto di prodotto, letteralmente proprio siamo a corto di materia prima. Carenza di materia prima. Come è successo ormai cinque anni fa, nel 2015, in cui c'è stato un periodo di carenza di materia prima e di relativo aumento dei prezzi, attualmente siamo in questa situazione. ma oserei dire in situazione ancora più drammatica perché ormai è da ottobre, quindi ormai sono quasi sei mesi e non se ne vede la fine, in cui i produttori delle materie prime, in particolare PVC, polietilene... Ecco, ci spiego le materie prime perché tutti sappiamo che la plastica è un materiale artificiale ma magari non pensiamo quali sono le materie prime. No, esatto, chiaramente tutti noi trasformatori, io rappresento per Confindustria Venezia e Rovigo tutti un po' i trasformatori della plastica. Siamo un numero importante, c'è proprio un polo di trasformatori della plastica, soprattutto nella provincia di Rovigo e stiamo subendo tutti questo problema perché comunque dicevo appunto che da ottobre abbiamo avuto inizialmente una richiesta di aumento prezzi un po' da tutti i fornitori e poi sono cominciate a susseguirsi delle cause chiamate di forza maggiore per diversi motivi, fermi impianti, manutenzioni straordinarie, situazioni climatiche, situazioni contingenti per cui moltissimi produttori in giro per il mondo di materie prime della plastica hanno fermato o comunque ridotto le proprie forniture. Ci troviamo... Ecco, le materie prime, lei prima ne ha accennato, sono? Le materie prime in particolare, quelle principali, sono il PVC, il polietilene, il PET, insomma, per tutto un po' le produzioni per profili finestra, per tubi, per acqua, per anche la plastica monouso, gli imballaggi dei supermercati e quant'altro. Qua apro un'altra parentesi perché è sempre bene ricordare che in Italia il premio Nobel Natta ha inventato, insomma, il Moplen, se non vado errato alla fine, all'inizio degli anni 60, insomma, materia che ha cambiato la storia del mondo, insomma, la plastica. Eppure oggi noi, cioè abbiamo un'industria di trasformazione, ci mancano le materie prima. Sì, esatto, come dicevo prima, insomma, abbiamo... È un po' curioso. È curioso, sì. Non è l'unico caso, eh. No, no, infatti, purtroppo negli ultimi decenni, insomma, l'Italia ha scelto a forza o per scelta di abbandonare molte produzioni di materie prime. Stiamo quasi abbandonando ormai anche l'acciaio e ci ritroviamo a dover sottostare, appunto, alle volontà o comunque alle contingenze di produttori esteri senza avere l'autonomia su produzioni molto importanti. Ecco, ma secondo lei perché? Perché nel caso della plastica produrre la materia prima avrebbe anche immediatamente uno sbocco sul mercato nazionale, viso che è ancora un'industria importante quella della trasformazione. Avrebbe un grande mercato nazionale, avrebbe comunque, possiamo dire, la capacità di decidere delle proprie sorti, perché anche, chiaramente, in una situazione del genere, anche a livello nazionale, anche a livello governativo, si potrebbe decidere di supplire a mancanze magari che vengono dall'estero con le produzioni domestiche. Lo sarete chiesti, siete anche, voglio dire, i rappresentanti della più importante associazione di imprese italiane. Ce lo siamo chiesti e dovremmo fare in modo di, nei prossimi anni, di rispingere per avere delle produzioni interne, come la plastica, come per molti altri settori. Anche perché la vostra testimonianza è quella che dimostra che se l'abbiamo con un settore remunerativo, perché la richiesta c'è. Sì, sì, la richiesta c'è. Tra l'altro, esatto, anche nei nostri mercati di trasformatori adesso c'è molta richiesta, c'è molta volontà da parte del mercato di recuperare un po' il tempo perso con il Covid l'anno scorso. E quindi è veramente un peccato dover rischiare di rimanere magari a corto di materia prima, paradossalmente dover fermare gli impianti perché non abbiamo le forniture e non poter soddisfare richieste da parte del mercato che invece sono alte. E da che paesi dipendiamo per la fornitura delle materie prima? Beh, diciamo che dipendiamo da molti paesi, da molti impianti europei, ci sono impianti in Francia, in Germania, in Ucraina, in molti paesi dell'est, ma anche dagli Stati Uniti e comunque da paesi delle Americhe, con cui normalmente si lavora anche a prezzi concorrenziali, ma che adesso per diverse situazioni non riusciamo quasi ad avere. Gli Stati Uniti, un po' con i dazzi, un po' la lotta commerciale che è stata messa in atto dalle precedenti amministrazioni, altri paesi comunque con questi problemi di forza maggiore che hanno avuto riescono a mandare poco... Sono problemi già non legati al Covid? No, nessuno ha legato le proprie problematiche al Covid. C'è da dire anche che probabilmente le voci che girano sul mercato è che le quantità che vengono prodotte vengono anche assorbite da zone del mondo che invece sono ripartite dopo il Covid molto forte come la Cina. Un mercato enorme che adesso è ripartita alla grande e non ha problemi neanche di liquidità, quindi paga le materie più di quanto siamo abituati a pagarle qui in Europa. Ecco, voi lamentate un aumento delle materie prime fino al 30%? Sì, che ahimè forse non basta neanche più perché di mese in mese chiaramente i produttori rifanno i prezzi e ormai per gli ordini di marzo siamo anche oltre quel livello lì. Ecco, ma tanto per capire, lei ha un'azienda, è esponente di un'azienda di trasformazione erodigina, per semplificare, il 30% in più sulla materia prima significa che a voi ovviamente il prodotto costa il 30% di più e quindi costa di più anche a me la bottiglia di acqua minerale? Sì, dovrebbe, però diciamo che è difficile girare completamente gli aumenti in così poco tempo. Però qualcosina sì, insomma. Qualcosina ovviamente stiamo provando a farlo. Il mercato, visto che è un problema di tutti, sta in parte recependo anche gli aumenti che noi la nostra volta facciamo, ma se noi abbiamo un aumento di costi del 30% riusciamo a recuperarne magari il 10%, quindi un terzo di questo aumento riusciamo a recuperarlo sul mercato. Non steppa alla volta, stiamo tentando il più possibile di recuperarlo, però ecco, non è facile anche perché siamo, per quanto mi riguarda, ma ritengo abbastanza tutti i settori nella plastica, e produzioni a valore aggiunto piuttosto basso, non abbiamo dei margini enormi e quindi chiaramente un aumento così importante del costo diventa difficile di assorbire così velocemente. Non è un po' sospetto che tutti i grandi produttori in materia prima, contemporaneamente abbiano cause di forza maggiore non legate al Covid? È sicuramente sospetto, però noi non possiamo che attenerci a quello che ci dicono e possiamo fare altro se non cercare di rendere noto il problema il più possibile in modo tale che forse a un certo punto, se speculazione c'è, a un certo punto magari si fermino. Ma non ci sono regole da questo punto di vista a livello mondiale? No, 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 ovviamente. Possono fare cartello volendo? In teoria no, ovviamente no, è una regola quella mondiale che vale per tutti, però sarebbe anche difficile dimostrarlo, insomma, ci dovrebbe essere un'indagine mondiale, non so quanto sia. Lei prima ci ha citato una serie di paesi che sono produttori delle materie prime, anche nella plastica, magari come nell'alimentare che c'è la materia prima di un determinato paese migliore di quella di un altro, oppure lo standard è uguale da tutti? No, devo dire che lo standard è abbastanza buono, è abbastanza alto per tutti, almeno per quanto mi riguarda nei settori, nel settore in cui lavoro, i produttori che conosco sono tutti allo stesso livello. Sicuramente ci sono anche delle produzioni di bassa qualità, che però vengono usate magari per tipologie di trasformazioni diverse, per cui non è richiesta una qualità particolare. Noi non siamo abituati ad avere forniture dall'est, dall'est del mondo, voglio dire, dal lontano oriente, quindi non so se quelle produzioni lì che normalmente vengono impiegate per produzioni locali, quindi sta la richiesta che hanno in Cina in particolare anche di materie prime, quindi ecco qui di quei materiali lì ne arriva poco. I materiali europei e americani sono prodotti buoni. Per concludere, a parte la vostra denuncia, c'è una sorta di deadline del settore oppure chinate la testa e via? Diciamo che se dovesse proseguire il problema a lungo, intanto saremo costretti, a causa mancanza di materiale, a chiudere gli impianti, un po' tutte, quindi non avremmo prodotti. No, no, non è uno scherzo affatto, sia dal punto di vista economico per il settore, ma sia dal punto di vista anche per i consumatori finali che si dovrebbero senza piatti, senza imballaggi, senza tubi per fare gli impianti nelle industrie o per farsi una piscina in casa o quant'altro, quindi insomma sarebbe un problema veramente forte. Io sono nato ottimista e quindi penso che non arriveremo a quel punto lì, però se la situazione rimane così potrebbe anche essere realistico. Sposiamo il suo ottimismo e le auguriamo in bocca al lupo. Grazie. Grazie ad Antonio Di Penta, che ricordo di essere il presidente della sezione materie plastiche di Confindustria a Venezia a Rovigo, quindi abbiamo affrontato, abbiamo spiegato insomma il problema che sta vivendo il settore della plastica. che è un problema dal rischio di pesanti conseguenze anche sull'occupazione. Grazie, a voi alla prossima. Grazie. Buon lavoro. Grazie. 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 Grazie a tutti.